Ancora anziani in questa quarta del convegno sulla distanza del Milo sono in dieci, sul numero tre Unico Car sale Gennaro Sotola, mezzo meccanico in movimento, Tornado Piz dopo l'ultima veramente notevole, numero sette, il Caterpillar in salchi, il più giocato al totalizzatore, Tornado e Ufo rinunciano all'allineamento e va via la macchina in velocità, Terracotona Jet la spinge la macchina e va facile al comando nei confronti di Unique Gar, cavalli che affrontano la piegata si va al completamento del lancio, viene via Tartufo Bianco, lancio in quattordici e tre, freeway per il Tartufo, problemi per Unique Gar che di galoppo retrocede e così il Tartufo prelibato al comando. Si va al quarto iniziale, quarto iniziale è nell'ordine del 29,9 e ora a grado Antonio Esposito con il suo Tartufo risale il 10 di U2 degli Ulivi, vengono via anche i ritardatari ma troveranno un po' di traffico e c'è Ufo e Tornado Piz, 45 da 1,15, 600 e cavalli che affrontano la piegata, non ci sono variazioni sostanziali con Unique Lewis che si affaccia. Si è formata una seconda fila a largo, il mezzo miglio iniziale in 1,1,2,16 e 2 di frazione, cavalli di fronte con l'allievo di Marcellino Vecchione che va al Salche di Tartufo Bianco, ha avuto problemi Tornado Piz che si elimina, chilometro in 16,1,14,9 di frazione, viene via U2 degli Ulivi che anticipa gli avversari e punta in avanti, il Tartufo al comando, si ingamba anche Ubique Par, 14,2 fanno 1,33, tre quarti di miglio, il Tartufo in vantaggio, U2 a largo, poi Terracotona, Ubique Par, si completa l'ultima curva, allunga e si distende il Tartufo e prende vantaggio, Tartufo in chiaro vantaggio, viene via Ufo a largo di tutti ma ormai non c'è più tempo, galoppa Ufo e il Tartufo vince alla grande, mentre U2 è secondo e terzo, attendiamo il giudice d'arrivo, 1,59,4, 1,14,6 rivista al meglio, guidato in modo veramente alla grande di Antonio Sposito 90, 13,12 in chiusura, il Tartufo prelibato vince in questa corsa, per il terzo Ubique Par probabilmente porta a casa la terza moneta, ma hanno strappato i biglietti, non si sa mai, 1,59,4, 1,14,6, il Tartufo prelibato.